Quanto costa non fare azione? Quindi cosa vuol dire questa cosa? Se per renderti conto di quante cose poi ti perdi nel momento in cui non fai azione, quindi nel momento in cui ti rendi conto sei poi più motivato nel fare azione e nel sorpassare l'ansia di approccio, c'era questo studente, di cui non diciamo il nome, tanto ho fatto già dei video pubblici su YouTube dove esponero un po' questo concetto e citavo questo studente che aveva fatto un corso al vivo nel 2020 dove praticamente lui aveva 38 anni quando è venuto a fare il corso al vivo e praticamente lui in tutta quanta la vita già cercava abbastanza bene con le ragazze però aveva sempre avuto la paura di approcciare le ragazze che veramente gli piacevano che nel suo caso erano le modelle, ok? E quindi Milano, città, per eccellenza dove si trovano un sacco di modelle e lui tutte le volte diceva che tutte le volte che veniva a Milano per approcciare le ragazze che veramente gli piacevano tutte le volte si cagava in mano, parole testuali che diceva nella videotestimonianza e facendo quei due giorni di corso al vivo all'epoca aveva fatto due appuntamenti con appunto due modelle in quei due giorni di corso al vivo senza neanche contare i tre altri appuntamenti istantanei che aveva fatto quindi aveva fatto tre appuntamenti istantanei più due primi appuntenti però vediamo semplicemente i primi appuntenti quindi aveva fatto due appuntenti in due giorni quindi possiamo dire due appuntenti in una settimana quindi che in realtà se avessi approcciato tutti i giorni se vuoi stato un corso di sette giorni ce l'avrebbe fatto mille volte in più gli appuntenti che ha fatto però stiamo semplici, stiamo bassi, ok? Due appuntenti in una settimana, ok? Con le ragazze veramente desiderava e gli piacevano quindi due appuntenti alla settimana sono otto appuntenti in un mese che sono 96 appuntenti in un anno mantenendo questa frequenza qua e ripeto, si può fare tranquillamente di più perché vedo una statistica in realtà anche proprio bassa quindi sono 96 appuntenti in un anno ci sono 52 settimane in un anno se non fai la moltiplicazione sono 96 appuntenti in un anno facendone due a settimana ora tu vuoi che su 96 appuntenti che fai in un anno non ci sia qualche ragazza con cui fai sesso anche decine di ragazze con cui fai sesso vuoi che non ci sia una ragazza con cui vale la pena entrare in una relazione e questo studente qua aveva 38 anni quando ha fatto il corso a vivo e quindi facciamo dai 18 ai 38 quindi sono 20 anni di tempo dove lui in 20 anni di tempo si è sempre precluso le ragazze che veramente gli interessavano ovvero appunto le modelle nel suo caso quindi immaginati 20 anni di tempo con i 96 appuntenti all'anno per 20 anni di tempo fanno 1920 appuntamenti in 20 anni che potenzialmente si è perso questo studente qua ora ha fatto altri appuntenti con tante altre ragazze nel corso della sua vita però non erano effettivamente le ragazze che veramente lui voleva le ragazze veramente gli piacevano che ne ripeto nel suo caso erano le modelle però per te potrebbe essere diverso quindi 1920 potenziali appuntamenti persi ok? perché pensava di non essere capace ok? quindi pensa altre volte quando ripeto finché non esci a approcciare e finché non ottieni un po' di riscontri positivi non te ne rendi conto di tutto quello che ti perdi nel momento in cui non fai l'azione ok? io per esempio il primo anno sono uscito a approcciare ragazze i primi 4 mesi 0 appuntenti poi dopo ho iniziato a fare dagli 1 ai 3 appuntenti al mese tutti quanti i mesi e quindi poi in un anno alla fine erano 20 appuntenti esatti nel mio primo anno partendo da 0 ero un ragazzino 19 anni mi vestivo di merda con le scarpe a corsa lo zaino della scuola devo approcciare le magliette il peggio del peggio quindi ti fa capire il look non conta un cazzo di niente già nel primo anno ero uscito anche con delle modelle ragazze molto belle ragazze non mi sarei neanche mai immaginato non avevo un lavoro facevo appuntenti al parco quando andava bene riuscivo a permettermi un caffè 20 appuntamenti partendo da 0 totale ero in una situazione peggiore possibile e immaginabile quindi tu nel peggiore dei casi proprio stando a bassi ti stai perdendo 20 appuntamenti all'anno nel momento in cui non fai azione nel momento in cui ti fai fermare d'ansia e approccio nel momento in cui stai a casa e continui a rimandare 20 appuntamenti all'anno ora tu vuoi che su 20 appuntamenti che fai in un anno non ci sia qualche ragazza con cui fai sesso non ci sia una ragazza con cui poi entri in una relazione che valga la pena di entrarci in una relazione e ripeto stando bassi ok oggi facendo a cazzeggio posso fare 3 appuntamenti alla settimana a cazzeggio ok avevo fatto delle stime delle volte io vorrei un giorno lo farò chi lo sa di fare un mese full immersion 8 ore al giorno approcciare giorno discoteca tinder mixare tutto quanto così a stima secondo me 20 ragazze in un mese me ne riesco a portare a letto con le capacità che so di avere ad oggi facendo una stima quindi si può ottenere veramente tanto ok nel momento in cui hai capacità sei stufo di non riuscire a parlare con le ragazze che ti piacciono per colpa dell'ansia e approccio? ti garantisco che in una sola giornata possiamo rimuoverti quest'ansia per sempre grazie al supporto dal vivo di un nostro coach esperto altrimenti ricevi soldi indietro sono 10 posti disponibili e le iscrizioni chiudono il 30 gennaio clicca sul link qui sotto in descrizione per maggiori informazioni e per vedere quanti posti sono ancora rimasti grazie a tutti